Buone notizie per i bambini con disabilità fisiche o sensoriali che necessitano di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale. Ad annunciarlo l'assessore regionale Chiara Caucino, che ha chiuso l'iter di ripartizione alle realtà locali delle risorse per l'assunzione di figure fondamentali per l'inclusione dei bambini e per la loro partecipazione alla vita scolastica. Per quanto riguarda il Piemonte, la cifra aggiuntiva in arrivo è pari a poco più di 7,7 milioni di euro. Per la provincia di Biella ne arriveranno 360 mila circa, 254 sono i bambini con disabilità. Per l'assessore Caucino è ormai evidente che parecchi piccoli hanno bisogno di professionisti che li affianchino in un percorso educativo specifico per integrarsi. Dunque con questo stanziamento che raddoppia il precedente, il ministro della disabilità dimostra una grande attenzione per i minori fragili, la stessa che la regione ha ammesso ai primi punti del programma. Si tratta dell'ennesima prova che quando si lavora in sinergia con volontà di ottenere un risultato, anche quelli più complicati non tardano ad arrivare. Questa giunta, sottolinea Caucino, punta sull'inclusività e continuerà a farlo anche in futuro.